Pronto Robè, Roberto, dove ti indossò? Avvia Scavezza Collo, guarda. Vedi un po' qua. Ma ti pare normale, che dichi? Che dichi, è normale una cosa simile. Anche perché mi dicono che ti hanno mannato le fotografie. Poi, là c'è stata una signora, ci ha voluto mettere la faccia. Dice, gli hanno mannato le foto, lo sa, sono mesi. Guarda un po', Robè. Vedi che può fare. Ricordate la campagna elettorale. Dobbiamo riqualificare Frascati. Una cosa e un'altra, capito? E qua c'è anche i turisti. Vengono a vedere il campanile. Mannaggia la miseria, ma che figura ci fanno? Robè. E daglielo. E si, bravo, su.